In questo libro che non è stato facile scrivere, io racconto al giornalista Nuccio Anselmo un pezzo della mia vita, un pezzo del mio cuore, tante amarezze, paure. Però è un pezzo di quel paese che vince una partita nella lotta alla mafia. La mafia dei Nebrodi ha subito un colpo durissimo ma non bisogna abbassare la guardia. Lo sottolinea Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, alla presentazione del libro scritto a quattro mani con il giornalista Nuccio Anselmo. che ripercorre la sua storia di denuncia del malaffare e l'attentato subito nel 2016. La storia di Antoci è una storia che libera per la prima volta questo territorio dall'oppressione mafiosa. Quindi molti agricoltori onesti ora potranno tornare a coltivare e a pascolare nel Parco dei Nebrodi grazie proprio a questa storia che noi raccontiamo in questo libro. Lui è stato uno di quelli che non si è voltato dall'altra parte e ha chiesto cosa ci facevano tutte quelle imprese in odori mafia all'interno del Parco dei Nebrodi. Ci sono ancora molti delitti risolti in quella zona, la speranza è quella di poter riuscire... Ci sono anche tanti omicidi, tanti fatti di violenza e certamente bisogna aprire questa spirale e arrivare alla verità. C'è bisogno di simboli ed eroi, basta fare il proprio dovere ogni giorno e facendo questo in maniera seria la mafia arretra.